Garantire la sicurezza dei cittadini chiedendo contestualmente che gli stessi residenti collaborino nella lotta alla criminalità. È l'obiettivo del nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Marostica, il maresciallo Alessandro Bortolon, 43 anni, che accoglie il testimone dal collega Tibersio Crivelletto, 51enne, da oggi in congedo. L'impegno è quello di non abbassare la guardia, continuando il lavoro svolto dal suo predecessore. In particolare riferimento bisogna avere nei reati contro il patrimonio, quindi cercheremo di attenzionare quelli, di svolgere una mirata attività preventiva soprattutto. Poi cercherò di proseguire l'opera del mio predecessore e se riuscirò in questo sarà già un grande risultato. Presente alla cerimonia il colonnello Alberto Santini del comando provinciale dei carabinieri e il capitano Adriano Castellari comandante della compagnia di Bassano. In questi anni di comando a Marostica il maresciallo Crivelletto si è distinto in numerose attività che hanno riguardato non solo la lotta ai reati contro il patrimonio, furti e rapine, ma ha sempre prestato un occhio di riguardo alla persona, cercando di far emergere il lato umano del militare. E Crivelletto lascia con una punta di nostalgia la città degli scacchi. È una città meravigliosa, che merita tutte le attenzioni che si possono dare, perché è una città stupenda. E dà un prezioso consiglio al suo successore. Di essere se stesso, di rimanere come ho cercato di fare io, umile e con i piedi per terra e fare il proprio lavoro. Io lo accetto volentieri, cercherò di seguirlo e spero di essere all'altezza delle aspettative.